ciao ciao dunque mi rifaccio al video di livello 100 che si chiedeva se alle ragazze piacciono i soldi il primo pensiero è stato ma a voi uomini fanno schifo e poi c'è questa storia che bisogna assolutamente saper cucinare secondo qualcuno mi viene già da ridere probabilmente chi mi segue sa già chi mi riferisco letter della cucina ne avevo anche un e 3 cattolico una volta me lo son perso cioè e per cattolico se ci sei fammi sapere come stai perché non posso vivere senza il tuo corcifisso ovunque in casa e quindi mi chiedevo se a voi uomini i soldi facessero proprio così schifo mi risulta di no anche perché il mondo più o meno ruota un mondo materialista e capitalista mettetelo come volete ruota attorno a quello cioè certo che certo è che io certo che amo i soldi non vedo l'ora di andare a vivere in un posto più bello di questo e per fare questo ci vogliono i soldi e ci vogliono anche il culo che molti progetti funzionino per cui come diceva livello 100 smettiamola di dare la colpa agli altri dicendo che alle donne piacciono solo i soldi piacciono a quasi tutti i soldi ci saranno delle eccezioni perché probabilmente a qualcuno forse troppi soldi fanno paura perché ci sono i rapimenti non sai dove metterle non hai paura che le persone chiusino quindi ti ritrovi in una sorta di come dire strada senza uscita prigione chiamatela come volete quindi ovviamente mi piacciono i soldi ma poi se non ho una comunione di interessi non ho dell'affetto lo chiamo affetto perché se lo uso con un altro nome ho paura che youtube mi banni io veramente non vado da nessuna parte poi onestamente le incomprensioni caratteriali per me sono una cosa molto molto pericolosa ne ho paura nel rapporto di coppia e quindi niente ci vuole una certa compatibilità ecco anche la compatibilità al suo ruolo molti di voi hanno detto portafoglio e pacco potere una cosa del genere quindi portafoglio si pacco beh ci vuole anche quello insomma altrimenti io con cosa mi mi diverto quando sono stanca con il blender e con gli altri miei hobby e potere dipende cosa intendete se intendete come carisma sentire parlare una persona carismatica chi non piace cioè potere in sé avere a che fare con un politico secondo me non è proprio il massimo della vita detto questo vi saluto vi mando un bacio